Mi perdoni Presidente, per lei, perché Grillo pare che abbia sentito quello che lei ha detto qui da noi e dice mi collegherò con una seduta spiritica e li parlerò attraverso i medium, le sue sono voci dall'aldilà ha aggiunto il leader Movimento 5 Stelle parlando del fatto che lei gli ha dato dell'evasore ormai si vede proprio che non crede più a quello che dice Bene, allora io rispondo in diretta al signor Grillo, se lui vuole facciamo una trasmissione aperta io porto coloro che possono testimoniare del fatto che lui accettava i compensi con una parte forte in nero e poi posso portare la sentenza con cui è stato condannato per omicidio colposo con l'uccisione di tre persone queste parole lei capisce che non dicono nulla, sono delle parole evasive per buttare fumo sulle cose serie che ho detto io